Dunque, buongiorno a tutti. Allora, oggi vediamo la fine dell'esercizio che abbiamo iniziato la volta scorsa, quindi quello relativo ai gestori corsi, che sarà comunque... ci sono dei punti in comune con il laboratorio di questa settimana, quindi è anche interessante vederlo insieme, finirlo insieme, così che poi possiate affrontare il laboratorio nel migliore dei modi. E poi l'ora e mezza dopo inizierete col professor Corno un altro argomento, dovreste già aver paura dell'argomento che farete dopo, che sarà la ricorsione, quindi uno degli scogli principali di questo corso. Quindi adesso ci alleniamo un po' con questo esercizio che è più facile e poi dopo, l'ora dopo, antenne dritte. Va bene, riprendiamo l'esercizio. Ho fatto anche con meet and push della soluzione che abbiamo visto, della prima parte che abbiamo visto la volta scorsa, quindi per chi non c'era o per chi è indietro, vuole allinearsi e ripartire da quello che abbiamo fatto la volta scorsa, si può fare fork e clone del progetto su TDP 2022. Va bene, allora, vediamo un attimo a che punto eravamo arrivati. Abbiamo fatto il primo punto qui, quindi eravamo riusciti a elencare tutti i corsi dato un periodo didattico, uno o due, e avevamo iniziato a, l'abbiamo fatto in realtà, la query per questo secondo punto, che ci chiedeva di stampare il numero di iscritti ai corsi di un determinato periodo didattico, quindi la divisione dei corsi con a fianco il numero di iscritti per tali corsi. Io mi riprendo un attimo la query che abbiamo fatto la volta scorsa alla fine, ed era questa qui. Vedete che l'output è appunto una serie di righe in cui abbiamo tutte le informazioni di un corso e poi l'ultima colonna, N, si legge un po' piccolo, ma fidatevi, è il numero di iscritti a quei corsi lì. E la query era questa, no? Avete domande, ve la ricordate? Quindi ci recuperavamo le informazioni relative a un corso, dalla tabella corso ovviamente, poi però per contare il numero di iscritti avevamo bisogno anche della tabella temporanea iscrizione, che appunto, se vi ricordate, nel database che utilizziamo mappa la relazione molti a molti tra corsi e studenti, e quindi facevamo il join tra queste due tabelle ovviamente, questo è fondamentale, impostavamo un periodo didattico, poi ovviamente in Eclipse non ci sarà un numerino fisso, ma il solito punto interrogativo, e poi per contare quanti iscritti ci sono in ogni corso, prendiamo tutte le righe che ci saltano fuori da questa join, le collassiamo contandole, quindi con un count asterisco, ovviamente per, dobbiamo anche raggruppare poi per corso, quindi raggruppiamo per corso, prendiamo tutte le righe di ogni corso, le collassiamo contandone il numero. Questa era la query. Se non ci sono dubbi, allora adesso proviamo a riportarla di là e inserirla nel nostro programma. La volta scorsa, se non mi sbaglio, abbiamo anche iniziato a ragionare, andiamo nel nostro DAO, corso DAO, su quale struttura dati possiamo usare per recuperarci questa serie di informazioni. Mi ricordo che qualcuno l'aveva detto, qual è una possibilità in questo caso per avere queste righe con un corso e l'informazione del numero di iscritti. Una matrice, sì, parliamo in linguaggio Java. Una mappa, ok? Quindi un'idea potrebbe essere una mappa in cui la chiave è... Lo so che sono le otto e mezza, ma lo sono anche per me. Il code INSS va bene, in realtà noi dobbiamo stampare, almeno secondo le richieste, tutte le informazioni del corso, non solo il code INSS. Quindi potremmo pensare di avere come chiave l'intero corso, no? Quindi il corso è la chiave della mappa e per ogni corso il suo valore è il numero di iscritti. Questo potrebbe essere un'alternativa. Questo va bene, ad esempio, lo ripetiamo fino alla nausea, se ci serve, ad esempio, cercare percorso in modo molto efficiente. Cioè, dato un corso, dammi il suo numero di iscritti, se dobbiamo fare tante di queste operazioni, la mappa è sicuramente la struttura dati più adatta. Dobbiamo invece ordinare i corsi, magari in ordine alfabetico, cosa probabile, allora magari la mappa non è più la struttura dati più adatta e potremmo, per esempio, avere invece una lista di che cosa? Di una classe che ci creiamo noi, al cui interno andremo a salvarci un corso e un intero che è il suo numero di iscritti. Ipotizziamo di avere una classe corso e iscritti che al suo interno contiene un attributo corso e un attributo intero con il numero di iscritti. In questo modo è più facile ordinarlo, perché abbiamo una lista, una lista si ordina in modo più semplice. Non c'è una risposta, come sempre, giusta o sbagliata. Vediamo magari in questo caso la mappa e poi per un punto successivo che sarà simile vediamo un esempio con la classe invece. Ok? Quindi torniamo un attimo alla versione con la mappa. Abbiamo detto una mappa di corso integer. Sì? Sì, certo. Zoom un po' il codice. Poi diamo un nome a questo metodo get iscritti e come parametro anche qui l'utente ci dice il periodo didattico quindi esattamente come il metodo che abbiamo fatto la volta scorsa getCorsiByPeriodo avremmo un parametro int periodo. Importiamo la mappa Import Adesso il pattern è veramente sempre simile quindi se volete potete anche sempre non lo so se avete già un metodo del DAO già fatto lo copiate, lo rincollate poi andate a modificare quello che vi serve. Proviamo ancora questa volta a farlo da zero. Quindi la prima cosa è sempre definirsi la query che andremo ad utilizzare quindi una stringa string SQL aperta e chiusa aperti e chiusi gli apici e vado a copiarmi la query che mi sono fatto prima nel client in SQL Pro Command C o Control C su Windows e la incollo tra gli apici. Poi il solito lavoretto di sistemare le cose vi ripeto di fare attenzione alle solite cose quindi togliere gli slashen e lasciare uno spazio alla fine di ogni riga quindi anche qui tolgo lo slashen e lascio lo spazio tolgo lo slashen e lascio lo spazio l'ultimo spazio non è più nell'ultima riga non è più necessario ovviamente punto e virgola però ci serve e salvo poi al posto del parametro fisso che avevamo inserito solo per provare la qui rimettiamo un punto interrogativo poi dobbiamo definirci una struttura dati per andare a recuperarci i dati dal database e utilizzarli all'interno del nostro programma abbiamo detto che sarà una mappa questa struttura dati e quindi map corso integer result uguale chiamatela come volete new hash map di corso integer importiamo anche l'hash map e va bene a questo punto tutte le operazioni che andiamo a fare da qui in avanti potrebbero in teoria generare delle SQL exception perché da adesso in poi andiamo a cercare di accedere al database e quindi mettiamo tutto all'interno di un try catch try catch e andiamo a catturare queste SQL exception come gestiamo come gestiamo le eccezioni di nuovo possiamo usare il metodo che vogliamo io mi copio quello che avevamo fatto per l'altro metodo per essere coerente e quindi nel nostro caso andiamo semplicemente a stampare l'errore sulla console così se c'è qualcosa che non va riusciamo a capire che cosa e poi ritorno il valore nullo mi importo SQL exception no non è da importare è già importata qui mi sta dando questo errorino qui perché al momento non ho scritto nessuna istruzione che potrebbe generare quella eccezione quindi Eclipse mi sta dicendo guarda che questa eccezione è inutile per adesso ma vedremo che non sarà più inutile appena scriviamo qualcosa allora primo passo ottenere la connessione copio dal metodo sopra grazie alla classe ConnectDB che abbiamo fatto la volta scorsa poi dobbiamo crearci lo statement copio anche dal metodo sopra statement a partire dalla query che abbiamo appena definito sopra adesso dobbiamo inserire il parametro st.setint è un intero il periodo didattico nel nostro caso in che posizione? abbiamo detto occhio perché i parametri qui non partono da 0 ma partono da 1 quindi qui in questa query abbiamo un solo parametro a posizione 1 quindi a posizione 1 inserisco il mio periodo che è il parametro che mi ha passato l'utente poi attraverso il controller il model siamo arrivati fino a qui quando ho settato il parametro posso eseguire la query altro errore classico eseguire la query prima di settare il parametro ovviamente non funziona quindi eseguo la query quando ho fatto la mia setint o setstring o set qualcosa result set execute query copio da sopra adesso abbiamo questo result set che in teoria ci contiene il risultato di quella query lì in questo caso sappiamo che potenzialmente c'è più di un risultato e quindi ci serve un ciclo per scorrere questo result set e andare a prendere una riga per volta e fare quello che dobbiamo fare quindi while rs.next vi ricordo che il metodo next ci fa avanzare di una riga il result set e oltre a questo ci ritorna vero o falso se abbiamo finito o non ancora quindi se entriamo nel ciclo while siamo avanzati di una riga perché quella riga c'era e quindi possiamo prendere quella riga e farne ciò che vogliamo adesso per costruzione noi sappiamo che abbiamo raggruppato percorso giusto quindi tutti i corsi che incontriamo saranno nuovi per noi diciamo così li incontriamo una sola volta sono univoci nel risultato e quindi dovremmo creare sempre una nuova entry nella nostra mappa non dobbiamo controllare se un corso c'è già perché sarà sicuramente nuovo per come abbiamo fatto la query i corsi li incontriamo tutti una sola volta questo è chiaro? ok quindi tutte le volte andrò a mettere nella mia mappa un corso farò una new di un corso e il suo totale iscritti resalt punto faccio tutto insieme oppure possiamo anche fare le cose divise è la stessa cosa put qui mi vado a creare nel primo parametro quindi quello della chiave il mio corso e di là ci metto nel secondo parametro il numero di iscritti quindi new corso abbiamo il costruttore apposta e come parametri andiamo a prendere i campi che prendiamo dal database i valori che prendiamo dal risultato della query ecco e quindi tramite il result set farò una serie di get per recuperarmi tutte le informazioni del corso ora non mi ricordo l'ordine andiamo a vederlo nel costruttore ok abbiamo codins crediti nome e pd periodo didattico quindi il codins è una stringa rs.getstring tra apici mettiamo il nome della colonna vi ricordo la volta scorsa ho usato questa convenzione per cui ho chiamato gli attributi della classe corso nello stesso modo delle colonne perché così mi è facile non mi confondo però questa potete anche usare nomi diversi se usate nomi diversi occhio a non prendere i nomi della classe ma quelli delle colonne del database quindi codins crediti nome e pd ok codins virgola rs.rs.getstring rs.getstring l'ultimo parametro pd quindi mi creo questo corso lo metto come chiave e di qua nel secondo parametro della mappa mettiamo rs.getint perché abbiamo contato sarà un intero attenzione se facessimo una media no? con una funzione di aggregazione avg non sarebbe più un intero ma un get double ad esempio qui è un conteggio quindi un intero e tra parentesi a questo punto andiamo a vedere di mettere l'abbiamo ridefinito con la as e quindi mettiamo il nome che abbiamo usato in questo caso n ok? domande su questo? bene quindi facciamo tutte queste put nella mappa e quando usciamo dal ciclo while abbiamo finito e che cosa facciamo? chiudiamo la connessione e magari anche il result set e il prepared statement la cosa importante comunque è chiudere la connessione e poi ritorniamo questa mappa e abbiamo e abbiamo il nostro metodo del DAO a questo punto salviamo saliamo di un livello quindi dal DAO passiamo a chi chiamerà questo DAO che è il modello il modello come nel caso della scorsa volta funge solamente da passacarte quindi avremo un metodo che possiamo anche chiamare nello stesso modo quindi map come valore di ritorno corso integer get iscritti il parametro è sempre il periodo e qui facciamo semplicemente una return dis punto corso DAO richiamiamo il metodo che abbiamo appena fatto get iscritti periodo importiamo solo la mappa e qui siamo al secondo livello saliamo ancora di uno e useremo il metodo del modello tramite il controller quindi passo al controller eccolo qua qui abbiamo già il nostro metodo associato al bottone già preparato lì per noi solo più da compilare era già nel progetto base e questo metodo numero studenti e qui di nuovo non è che dobbiamo sempre riscrivere tutto da zero in questo caso l'input dell'utente è sempre lo stesso è sempre inserito in quella casella di testo del periodo didattico quindi tutto il controllo sull'input lo posso copiare da quello che ho fatto la volta scorsa nell'altro metodo quindi tutta la prima parte è uguale per questo bottone quindi controlliamo sia che sia effettivamente un numero e poi che sia un numero o uno o due e non un altro numero quindi command c command b ho ricopiato il controllo sull'input e qui poi da qui in avanti ovviamente un po' cambia a questo punto non ci recuperiamo più solo una lista ma sarà una mappa quindi la mia mappa di corso integer iscritti la vado a chiedere al mio modello dis.model .get iscritti sì periodo numerico è la mia variabile che contiene uno o due importiamo solo map e adesso posso andare a stampare il contenuto della mappa come si stampa una mappa ci sono varie possibilità ok ne proviamo una che può essere quella di ottenere tutte le chiavi ciclare sulle chiavi e poi per ogni chiave vado a prendermi il valore e lo stampo quindi for le chiavi sono dei corsi giusto corso c in iscritti punto ops key set il metodo key set richiamato su una mappa ci restituisce il set delle chiavi di quella mappa vi ricordo che le chiavi in un hash map sono univoche a questo punto posso stamparmi la chiave e poi per agganciarci il valore corrispondente lo vado a chiedere alla mappa tanto è un'operazione immediata e quindi posso dire txt risultato punto append text stampo il corso c la chiave più mettiamo magari uno spazio poi si può fare meglio ma non importa più per stamparmi il valore lo chiedo la mia mappa iscritti iscritti punto get corso c e più magari uno slash n per andare a capo ogni volta domande su questo? vi ricordo che abbiamo messo degli oggetti corso come chiave di una hash map se voi non ridefinite le hash code e l'equals cosa che abbiamo fatto la volta scorsa non funziona poi niente quindi occhio usiamo oggetti corso come chiave abbiamo la necessità di definire in modo furbo hash code e equals con i database abbiamo visto che è molto facile basta selezionare sempre la chiave primaria e siamo a posto sappiamo che la chiave primaria per costruzione ci identifica gli oggetti in modo univo proviamolo speriamo di essere fortunati ok inserisco ad esempio il secondo periodo didattico clicco su numero studenti e ora non si vedrà tanto però posso assicurarvi che sembra funzionare abbiamo l'informazione sul corso esempio questo è gestione dell'innovazione sviluppo del prodotto secondo periodo didattico 235 iscritti penso sia ragionevole e quindi sembra sembra funzionare ok se ci siamo passiamo alla seconda parte di questo esercizio che è relativa ci chiede di analizzare dei singoli corsi quindi qui l'input sarà sempre il codice di un corso facciamo il primo punto che è quello più facile elencare tutti gli studenti di un determinato corso quindi l'utente può inserire il codice di un corso e il programma stampa l'elenco degli studenti iscritti ok allora magari andiamo un attimo a prenderci come abbiamo fatto la volta scorsa il nostro diagramma entità relazioni quindi nella cartella DB eccola qua e facciamoci la solita domanda che ci permette già di capire di impostare un attimino la query quali tabelle ci servono ok ci basta la tabella studente ovviamente la tabella studente ci serve perché dobbiamo stamparne tutte le informazioni associate a uno studente ma ci basta questa direi di no perché no l'input è il codice di un corso questa informazione qui nella tabella studente non c'è e dov'è il primo punto in cui riusciamo a trovarla se partiamo da sinistra andiamo verso destra è la tabella iscrizione del corso specifichiamo solo codins e quindi riusciamo quantomeno a fermarci a iscrizione dovessimo cercare o stampare studenti dato il nome di un corso sarebbe più complicato perché dovrei avere anche la tabella corso perché l'informazione sul nome è solo nella tabella corso ma in questo caso ci basta la tabella iscrizione ok quindi proviamo a fare questa query velocemente abbastanza facile sul nostro client abbiamo detto due tabelle studente s iscrizione i poi vogliamo stampare tutte le informazioni relative allo studente quindi non possiamo usare l'asterisco perché c'è anche iscrizione ma le elenchiamo andiamo un attimo a vedere quali sono matricola cognome nome cds quindi s.matricola s.cognome s.nome s.cds dove dobbiamo fare la join vediamo su che campo viene fatta questa join sulla matricola quindi dove s.matricola uguale a i.matricola and dobbiamo specificare ovviamente un corso quindi i.codins uguale qui proviamo questa query con un corso a caso tipo questo qui lo copio jazz 2t 4 quindi vogliamo tutti gli studenti iscritti a quel corso lì proviamo a lanciarla siamo proprio fortunati no è impossibile perché dovrebbe quantomeno darci proviamo con un altro stiamo sbagliando qualcosa ah giusto grazie ho copiato il cds ovviamente non è il codice del corso il cds è il corso di studi associato a ogni a ogni studente quindi ho sbagliato proprio tabella il codice del corso lo prendiamo da codins abbiamo detto quindi questo bellissimo corso che non so quale sia in ogni caso a tutti questi studenti iscritti e vedete che riusciamo a prendere le varie informazioni adesso come l'altra volta ragioniamo sui dati che si scambieranno i nostri componenti del programma stiamo recuperando studenti e quindi ci servirà avere una classe studente come abbiamo la classe corso dovremo avere la classe studente per poterci scambiare ad esempio liste di studenti allora torno su eclipse e prima di impostare il metodo del dao con la query che abbiamo appena fatto nel mio package model faccio tasto destro e creo una nuova classe appunto studente queste classi abbiamo visto si creano sempre allo stesso modo quindi è molto facile molto automatico farlo spesso ve le ritroverete già fatte nel progetto base però può capitare che dobbiate crearne una per qualche esigenza particolare quindi abbiamo una serie di attributi privati che riflettono esattamente le colonne della tabella quindi andiamo qui sulla struttura della tabella studente abbiamo matricola intero cognome stringa nome stringa cds stringa quindi il primo campo sarà un private integer matricola no poi private string cognome private string nome e private string cds questa è la prima parte poi ci servirà un costruttore che utilizzeremo per creare oggetti di tipo studente in modo più facile farcelo generare in automatico quindi mi posiziono lì sul bianco tasto destro menu source generate constructor using fields e in questo caso li seleziono tutti tutti i campi che ho appena definito generate e in automatico Eclipse mi crea per me il il costruttore oltre oltre al costruttore ci servono anche i getter e i setter perché sono attributi di tipo privato devo poter avere la possibilità di cambiarli se ho necessità e soprattutto di recuperarli per stampare anche qui Eclipse ci viene in aiuto quindi tasto destro sotto al costruttore menu source generate getter e setter riseleziono tutti e premo generate e a gratis ho i miei getter e i setter l'ultima cosa non vi faccio la domanda perché sarebbe troppo banale hash code equals perché se questi studenti li andiamo a mettere in una mappa in un grafo vedremo quando metteremo gli oggetti nel grafo anche sarà importante che questi che queste classi abbiano l'hash code equals quindi ci serve tasto destro menu source generate hash code equals e lasciamo come abbiamo detto la chiave primaria perché siamo sicuri che questo campo ci identifica univocamente due studenti cioè gli studenti in generale ok generate hash code equals abbiamo il nostro la nostra classe studente possiamo adesso definire il metodo del DAO ah qui la volta scorsa vi ho detto questo di solito per ogni tabella potremmo avere un DAO diverso ok avevamo il corso DAO per recuperarci le informazioni sui corsi qui stiamo recuperando degli studenti quindi volendo potremmo crearci un nuovo DAO studente DAO non è obbligatorio potremmo fare tutto in un unico in un unico DAO però se vogliamo mantenere le cose separate questo ci aiuta perché vedendo la classe sappiamo già il nome della classe sappiamo già se ci servono i metodi per gli studenti andiamo diretti lì e sappiamo che quella classe contiene solo metodi per recuperare agire modificare studenti quindi nel mio package DB faccio tasto destro e mi creo new class studente DAO a questo punto qui mi creo il metodo basato sulla query che abbiamo appena fatto quindi public il nome può essere get studenti by corso il parametro per il parametro abbiamo due possibilità o andiamo di banalmente stringa ok l'utente ci passa alla fine della fiera una stringa quindi il codice del corso oppure potremmo anche pensare di avere un oggetto corso che andiamo a crearci al volo per contenere l'input dell'utente che in questo caso sarà solo code ins quindi a partire dal controller potremmo creare un oggetto corso che contenga solo il code ins ad esempio se vogliamo che il parametro sia di tipo corso è uguale forse il metodo più semplice è usare una stringa e che oggetti si scambiano in questo caso abbiamo direi se andiamo a vedere il risultato della query un solo tipo di informazione ogni riga contiene uno studente e quindi direi che qui una lista è la soluzione migliore non abbiamo come prima due tipi di informazione ma solo una quindi una lista di studente importiamo le varie cose import list import studente vado un po' più veloce perché ormai sappiamo come fare questi metodi string sql andiamo copiarci la query la sistemiamo togliendo gli slashen lasciando lo spazio e anche togliendo il parametro e mettendo un punto interrogativo fuori dal try catch definiamo ancora la struttura dati di risultato list studente result uguale new array list va bene importiamo array list e poi c'è il nostro bellissimo try catch sql exception e vado a recuperarmi un po' di cose dall'altro DAO così faccio prima ad esempio la gestione degli errori che sarà uguale nel catch inserisco le mie tre righe poi vediamo se riusciamo a copiare ancora altro sicuramente riusciamo a copiare l'ottenimento della connessione e anche la creazione del prepared statement qui il parametro è diverso rispetto a prima non è più un intero e quindi cambierà anche questa riga di codice non sarà più una setint ma una setstring setstring a posizione 1 il mio codins qui attenzione dovete sempre andare a vedere di che tipo è il parametro e usare il metodo set corretto adesso posso eseguire la query me lo copio di qua e fare il mio ciclo while rs punto next a questo punto aggiungo al mio alla mia lista ogni volta add uno studente nuovo new studente qui la parte è un po' più noiosa rs punto get il primo elemento è matricola immagino si che è un integer e poi tutto il resto è string quindi getint matricola virgola andiamo a capo rs punto get string cognome virgola rs punto get string nome virgola a capo rs punto get string c ds occhio perché è maiuscolo e chiudiamo quando arrivo qui di nuovo posso andarmi a copiare le istruzioni dall'altro metodo di chiusura delle mie varie risorse e ritorno del risultato sql exception è ancora da importare immagino sì ok e abbiamo e abbiamo il nostro metodo get studenti by course ci siamo adesso saliamo di un livello andiamo nel model qui abbiamo scelto di creare un nuovo dao una nuova classe e quindi dobbiamo anche avere un nuovo attributo se avessimo lasciato tutto all'interno di un dao non serviva studente dao studente dao quindi l'attributo che mi tiene un riferimento a questo dao che abbiamo appena creato che vado a importare e poi nel costruttore del modello oltre a crearmi un corso dao mi creo anche uno studente dao e poi lo uso nel mio metodo che non ho ancora devo creare public lo chiamo allo stesso modo list studente get studenti by corso dove il parametro era uno string codings qui semplicemente vado a richiamare lo stesso metodo sul this punto studente dao ok saliamo ancora controller e abbiamo il nostro bottone direi questo qui stampa studenti dal nome mi sembra proprio lui in cui possiamo richiamare questo metodo del modello prima parte sempre ottenimento dell'input e suo controllo in questo caso l'input è una stringa una stringa composta da lettere e numeri quindi non è che possiamo fare tanti controlli diciamo così di pattern del del tipo di di input andiamo a prenderlo string codings txt uguale txt che non so come si chiami andiamo a vedere se c'è un nome furbo txt corso direi txt corso punto get value non di order ma value get text txt si vedete mi confondo sempre quindi dicevo non è che possiamo fare grosse cose possiamo sicuramente controllare che non sia nullo o che non sia magari la stringa la stringa vuota quindi if codings uguale uguale a null or perché non so non so apri o non mi ricordo se quando clicco sul bottone ottengo con una get text il codings e l'area di testo non ho inserito niente non so in quel caso se mi dia nullo o la stringa vuota non mi ricordo non ho voglia di provare metto entrambe le condizioni no? almeno non non perdiamo tempo quindi se è uguale uguale a nullo oppure se è codings uguale uguale alla stringa vuota posso scrivere txt result punto txt risultato punto append text per favore inserisci un codice di un corso e poi faccio return questo è l'unico controllo che posso fare in questo caso sul sul formato dell'input qual è un altro un altro controllo che potrei fare che però non è legato al formato dell'input che il corso esista prima di andare a stampare la lista degli studenti potrei andare a vedere che il corso esista veramente magari lo vediamo se abbiamo tempo alla fine perché sarebbe importante farlo perché supponiamo abbiamo due casi no? possibili che non riusciamo a distinguere senza fare questo controllo potremmo avere ad esempio un corso che è appena nato e non ha ancora studenti iscritti e quindi il mio output sarebbe vuoto però non sarebbe un errore perché il corso esiste effettivamente il corso esiste ma ha zero studenti iscritti viceversa potrebbe invece essere che l'utente ci ha inserito un codice sbagliato e che quindi in quel caso il messaggio in teoria dovrebbe essere diverso dovrebbe essere il corso non esiste perché altrimenti non riusciamo a distinguere questi due casi quindi questo controllo potrebbe essere importante vediamo di farlo se abbiamo tempo se non lo aggiungo poi alla soluzione supponiamo che esista allora noi dal nostro modello ci recuperiamo una lista di studenti che vado a scorrere direttamente for per stamparli questi studenti for studente s in this punto model punto get studenti by corso codins importiamo un po' di cose tipo lo studente ok txt result risultato sempre punto append text s e più magari andiamo a capo allora c'è un problema studente dao no dovevo solo salvare vediamo un po' di lanciare questo programma e vediamo ah magari aggiungiamo anche una clear dell'area di testo all'inizio così puliamo l'area di testo ogni volta ok proviamo questo questo pezzo cerchiamo prendiamoci un attimo il codice del corso che abbiamo usato prima per fare una prova stampa studenti ok schifezza perché non ho ridefinito la to string non so se vedete ma la stampa non è quella che volevamo perché non abbiamo ridefinito la to string su studente quindi lui non sa come stampare banalmente uno studente quindi qua sotto tasto destro menu sorgente generate to string anche qui si può abbellire si può fare in vari modi noi la lasciamo così solo per fare una prova ok corso stampa studenti e vediamo che adesso la stampa la stampa c'è con tutti i campi del mio dei miei studenti proviamo a mettere una stringa vuota dovrebbe darci errore ops non lo stampa perché non lo so vediamo un po' perché il mio controller avrebbe dovuto entrare qua dentro o sbaglio no perché alla fine forse è così con uno spazio non dovrebbe ok proviamo con il debug così per chi non lo sa usare è importante sapere usare il debug potete vedere un esempio mettiamo un breakpoint sulla su una delle linee di codice su cui ci vogliamo fermare e andare avanti passo passo io lo metto sulla prima istruzione dimmi ah sì ma ho fatto veramente un errore da dovrebbero togliermi questo corso cosa ho sbagliato sono l'8 e mezza anche per me cioè non sono più l'8 e mezza ma mi sono svegliato presto poi magari taglio questo pezzo della video lezione cosa ho sbagliato qui ho usato un uguale uguale con le stringhe cioè proprio errore da insufficiente subito senza passare dal via equals ok quindi sul nullo sul valore nullo è giusto l'uguale uguale ma anche perché se facessi un punto equals col valore nullo è proprio una contraddizione perché se fosse nullo il punto equals mi darebbe una null pointer exception ma su un valore ovviamente dobbiamo usare gli equals e non un uguale uguale l'uguale uguale solo con i numeri riproviamo ok adesso va vorrei dire che l'ho fatto apposta ma non sarebbe vero ok comunque grazie a chi mi ha dato suggerimento però devo fare anche un appunto l'ho già fatto nelle scorse lezioni mi sembra quando vogliamo controllare l'uguaglianza non usiamo con per tu che fa un altro mestiere lo usiamo per ordinare con per tu ma usiamo l'equals ok che è il metodo che ci serve per fare esattamente quella cosa lì va bene vediamo l'ultimissimo punto di questo esercizio poi di nuovo se abbiamo tempo aggiungiamo anche questo controllo l'ultimo punto è dato il codice di un corso stampare la divisione degli studenti iscritti tra i vari corsi di studio ad esempio se noi prendiamo il corso che abbiamo usato come come esempio vediamo che questo corso ha una serie di studenti direi tutti appartenenti a questo corso di studi jazz z t4 quindi non è l'esempio lampante che ci serve però pensiamo ai corsi a scelta i corsi a scelta tipicamente hanno studenti che arrivano da diversi corsi di studio non solo da da questo qui e quindi noi vorremmo avere un insieme di righe in cui per ogni riga c'è un corso di studi ad esempio jazz z t4 e di fianco il numero di studenti di quel corso di studi in quello in quel specifico corso lì è chiara no la richiesta? quindi io inserisco il codice e mi aspetto un qualcosa del tipo non lo so jazz jazz qualcosa 15 12 meccanica 64 e informatica 34 ok ora ho usato dei codici sbagliati ma era solo per dare un'idea questo dato il codice di un corso quindi dato un corso in sostanza questo è quello che mi aspetto direi partiamo come sempre dalla query tabelle che ci servono secondo voi sicuramente l'input dove sta di nuovo in iscrizione codins cds invece che è l'altra informazione che ci serve sta in studente e quindi direi che anche questa volta dobbiamo avere queste due tabelle qui quindi se torniamo nel mio client diciamo così questa parte rimane uguale no? a prima abbiamo le nostre due tabelle studente e iscrizione dobbiamo fare la join e poi impostiamo anche il corso l'utente ci darà sempre quel parametro lì e noi noi impostiamo il codins adesso che cosa faccio? beh qui nella select abbiamo detto mi aspetto come prima informazione il cds no? e quindi il primo valore che inserisco qui nella select sarà il cds che trovo nella tabella s studente s.cds virgola che cosa vogliamo fare per ogni corso di studi? contare il numero di studenti appartenenti a quel corso di studi quindi di nuovo un conteggio count e qui un count asterisco no? contiamo tutte le righe non ci interessa specificare un campo nella count contiamo quante righe ci sono as n e come sempre funzione di aggregazione ci serve la group by cosa inseriamo qui? tutto quello che c'è prima della funzione di aggregazione in questo caso un solo campo quindi s.cds quindi in sostanza prendiamo tutta questa roba qui che questo era il risultato della query precedente raggruppiamo per s.cds quindi per l'ultima colonna raggruppiamo e contiamo quante righe ci sono quindi in questo caso c'è solo un cds quindi avremo una sola riga composta da jazz z t4 e il conteggio delle righe ma avessimo avuto più di un cds avremmo fatto ad esempio due gruppi tre gruppi e per ogni gruppo collasso e conto quante righe ci sono vediamo se funziona ah c'erano più gruppi vediamo che c'è questo mega gruppo di cui abbiamo già parlato ma poi c'è anche un jazz 2 t4 probabilmente non lo vedete ma il primo è jazz z t4 il secondo è jazz 2 t4 non chiedetemi cosa cambi magari voi lo sapete poi c'è un mecc z t1 sarà meccatronica meccanica non lo so in cui c'è un solo studente e poi c'è c'è questo ultimo risultato che è stringa vuota 1 cosa ci fa capire questo che probabilmente nel database c'è questa riga che è un po' sporca il database non è perfettamente diciamo così pulito ecco questo può capitare ok anche anche all'esame usiamo dei database che scarichiamo presi da organizzazioni presi da siti web quindi database che vengono utilizzati in pratica anche molto grossi e può capitare che siano sporchi ecco ci siano dei dati mancanti ci siano può capitare quindi in questo caso la scelta che potremmo fare è se incontriamo una riga sporca ad esempio uno studente che non ha associato un cds potremmo decidere di scartarla ad esempio no? e quindi aggiungo se vogliamo scartarla direttamente nella query aggiungo una clausola di where ok and s punto cds diverso dalla stringa vuota quindi se incontro uno studente che ha come cds la stringa vuota lo scarto proviamo e infatti quella riga di risultato è sparita è una scelta che ho fatto magari poi invece l'esercizio ci chiede di tenerne conto dipende qui abbiamo libertà di manovra e quindi decido di scartarla domande su questo? ok direi che abbiamo ancora tempo a riportare questa query di là così l'esercizio rimane completo allora qui come dicevo prima vado nel mio studente dao abbiamo due possibilità prima abbiamo usato nel corso dao anche qui abbiamo due tipi di informazioni diverse un cds e un numero che non fanno parte della stessa informazione anche qui come prima potremmo usare una mappa una mappa più semplice di quella di prima perché avremmo una mappa di stringhe interi no e questa è sempre un'opzione valida l'alternativa è avere una lista di oggetti di una classe di appoggio che mi creo io che contenga due cose il cds e il numero di iscritti supponiamo di voler ordinare i risultati per cds allora forse mi conviene avere questa lista perché poi l'ordinamento è più semplice e posso fare una collection punto sort e gli passo la lista proviamo a seguire questa strada qui così vediamo le due alternative questa strada qui diciamo così lo svantaggio è che devo crearne una classe in più ok perché qui voglio avere una lista è ma una lista di che cosa di una classe che dovrò farmi io chiamiamola divisione una classe semplicissima che contenga queste due informazioni get divisione studenti il parametro che ci passa l'utente sarà sempre il codings prima di continuare però facciamocela questa classe quindi nel mio package model tasto destro new class divisione e questa classe qui abbiamo detto avrà due semplici attributi string cds integer o int è uguale n la creiamo esattamente come prima quindi con il suo costruttore tasto destro source new constructor generate e poi anche i getter e i setter quindi source genere getter e setter ok attenzione io mi fermo qui adesso non vado a definirmi hashcode equals perché non lo faccio perché a priori so già che questi oggetti di tipo divisione non li andrò mai a inserire ad esempio in un hash map o in un hash set e non andrò mai a fare un punto equals su questi tipi di oggetti perché è semplicemente una classe di appoggio che io uso per poi stampare ordinare stampare e non mi interessa andare a confrontarli o inserirli in una struttura dati particolare lo faccio perché so quello che sto facendo e ho già in mente come andrà a finire e come userò questi tipi di oggetti però se non siete sicuri createvi questi hashcode equals però era per dire non sempre c'è la necessità di andarli a fare se lo fate non c'è niente di sbagliato però in questo caso so che non ne avrò bisogno e quindi non lo faccio a questo punto importo la mia classe divisione e posso rifare per l'ennesima volta il mio metodo del DAO quindi string SQL copiamo la la query di qua andiamo ad incollare togliamo gli slash n con lo spazio il code ins diventa un punto interrogativo attenzione qui vedete questa schifezza qui me l'ha fatta direttamente Eclipse quando ho incollato la mia query ha messo gli escape ai miei doppi apici che identificano la stringa vuota perché servono gli escape perché altrimenti lui non sarebbe più in grado di capire dove inizia e dove finisce la stringa no? perché non sa se questo se questi doppi apici sono la fine della mia stringa SQL oppure invece sono parte della string della della query stessa quindi se usate doppi apici all'interno di doppi apici bisogna mettere gli escape altrimenti togliamo innanzitutto lo slash n altrimenti potete usare gli apici singoli dovrebbero funzionare dopo proviamo lasciamo gli apici singoli e proviamo non so mai se sono apici doppi all'esterno con apici singoli dentro oppure il contrario apici singoli fuori ma dovrebbe essere così al massimo riceviamo un errore e modifichiamo punto e virgola la nostra query c'è andiamo spediti la mia lista di risultato questa volta sarà una lista di divisione result uguale new array list di divisione poi faccio questa cosa qui copio tutto e poi modifico per fare più in fretta quindi copio tutto quello che c'era nell'altro metodo del DAO command c e lo incollo qui e vado a modificare quello che mi serve la prima parte è sempre la stessa perché il parametro è sempre lui sempre codings execute query cambierà ovviamente qui quando vado a fare la add nella mia lista di risultato perché non sarà più un new studente via ma sarà una new divisione la classe che mi sono creato adesso divisione a un costruttore con due parametri il primo è cds quindi res punto get string s punto cds anzi dovrebbe funzionare con con cds e basta virgola res punto get int e un conteggio come prima n perché ho ridefinito il mio conteggio come n e poi non è res ma è rs andiamo a capo ops e il mio metodo è fatto vedete che è molto facile se i metodi sono simili cambio solo quello che mi serve il resto resta tutto uguale sempre passiamo al modello model 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 eccolo qua passacarte public list divisione get divisione studenti string codins return dis punto studente dao punto get divisione studenti codins saliamo ancora siamo agli sgoccioli qui di nuovo il controllo dell'input è lo stesso di prima quindi lo copio compreso il to do quindi questo controllo che potremmo in teoria fare se che ci dice se il corso esiste oppure no e poi posso stampare la mia lista non è più una mappa è anche più facile stamparla for divisione la mia classe d'appoggio che mi sono creato di in dis punto model punto get divisione studenti codins ho richiamato il mio metodo del modello che ho appena creato devo importare divisione ok e a questo punto posso stampare quindi txt risultato punto append text d.getcds più uno spazio una tabulazione slash t è uguale più d.getn e più magari lo slash n alla fine ok proviamo un attimo prendiamoci il nostro codice d'esempio inseriamo qui divisione studenti ok funziona quindi anche gli apici singoli li ha presi in modo corretto all'interno della query vedete la slash t ce li mette incolonnati ah va bene anche uno spazio adesso vediamo solo due minuti il beneficio di avere questa lista qui supponiamo di voler ordinare questi dati cosa che spesso capita nei nostri esercizi adesso sono già ordinati in ordine alfabetico ma potrebbe non non essere così o potremmo volerli ordinare in ordine decrescente ad esempio come facciamo abbiamo vi ho detto prima sicuramente possiamo usare una collection punto sort passandogli poi la lista e il metodo collection punto sort collections punto sort mi passiamo la nostra ah ok magari dobbiamo prima recuperarcela questa lista così che poi possiamo ordinarla quindi al posto di usare questa sintassi compatta io mi recupero la lista salvandomela in una variabile list divisione risultato chiamatela come volete uguale questa roba qui che prendo dal mio modello no dove sono finito ok e poi posso fare la collection punto sort di risultato e poi scorro risultato che in teoria dovrebbe essere ordinata ok quindi la ottengo dal modello la ordino e poi la uso per stampare va bene usiamo pure collections punto sort ma la domanda è come fa lui Eclipse a sapere come ordinare questi oggetti come fa a sapere con che criterio utilizzare non stiamo parlando di string ad esempio per cui l'ordinamento è sempre quello alfabetico ma stiamo parlando di una classe divisione che abbiamo appena creato noi e di cui Eclipse non conosce niente ok quindi oltre a usare il metodo collections punto sort dovremmo dirgli in qualche modo come fare questo ordinamento come si fa dovreste saperlo abbiamo due strade principali uno è definirci un comparator al volo qua dentro quindi nel metodo sort new comparator bla 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 quando è che è utile crearsi un comparator qua dentro quando noi le nostre classi abbiamo la necessità di ordinarle per criteri diversi ad esempio in un determinato punto del programma ci serve avere le nostre divisioni ordinate per cds in modo alfabetico in altri punti del programma ci serve avere questi oggetti di visione ordinati per numero di studenti quindi quando dobbiamo usare criteri di ordinamento multipli usiamo il new comparator qua dentro ok perché ci permette appunto di specificare criteri multipli quando invece sappiamo che i nostri oggetti scusate è finito il microfono vediamo se riusciamo a farlo ripartire non so se vabbè urlo un po' di più quando invece sappiamo che le nostre classi useranno sempre lo stesso ordinamento allora tanto vale definire un unico criterio all'interno della classe stessa quindi questa è la differenza tra il compare to e l'implements comparable che vado a fare in questo caso nella mia classe divisione quindi dico che la mia classe divisione implements comparable di divisione supponiamo che noi ordineremo sempre questi oggetti qui secondo il nostro criterio che sarà unico se implements comparable devo fare l'override del compare to diciamo così di classe che posso specificare non ogni volta nella sort ma una sola volta nella mia classe divisione e qui scrivo quello che mi serve scrivo il mio criterio di ordinamento return se vogliamo ordinare per cds diciamo ad esempio o punto get cds punto compare to in questo caso ho usato il compare to della classe string perché voglio ordinare solamente per cds è chiaro questo? se avessi voluto ordinare con qualche criterio strano che usasse sia cds che n potevo usare altri metodi ad esempio ritornare 1 meno 1 0 a seconda del mio criterio di ordinamento però se riusciamo a delegare e a utilizzare dei metodi che sono già fatti tutto di guadagnato noi sappiamo che il compare to delle stringhe funziona e semplicemente lo richiamiamo ok ora non mi ricordo mai facendo così mettendo prima la o e poi il cds se lo fa che ordine mi salta fuori allora facciamo la prova così vediamo al massimo ci mettiamo meno 1 davanti e lui invertirà l'ordinamento allora se lo lasciamo così vediamo cosa salta fuori no non c'ho più il codice lo vado a prendere di qua divisione studenti ok mettendo prima il campo mettendo prima l'attributo o in automatico me li stampa in ordine inverso no se li volessi in ordine crescente a questo punto o inverto cds con o oppure banalmente ci metto meno 1 davanti per e lui in teoria si inverte l'ordine ok allora se non ci sono domande direi che possiamo fare la pausa adesso arriverà il professor corno con cui inizierete la ricorsione grazie dell'attenzione e ci vediamo la prossima settimana grazie grazie grazie